Ecco l'entrata in campo delle due compagini per la decima giornata di andata del campionato provinciale giovanissimi, oggi giocheranno Virtus Castelfrentano con la classica maglia giallorossa e la San Buceto Calcio con la maglia viola, l'arbitro è il signor Ibizi della sezione Aglia di Lanciano, forza ragazzi, signore di Laio, signore? Forza ragazzi, la prossima volta vi faccio la foto che non ce l'avete con la giallorossa classica, vi siete scambiati con la panchina, gli auguri, i saluti? Allora 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 Allora